non so se dovrei fare questo visto che nevica a schifo ma vediamo vediamo ok si parte subito ci sarà tanto tanto backtracking da fare per l'ultima volta che lo faccio perché poi indietro non ce ne dovrei più niente a meno che non sblocco l'ultimo oggetto che mi serve ma non devo fare più niente in teoria ma che ho la stasi e la forza che erano gli ultimi due poteri mancavano per cui non ne dovevo più fare nulla mamma mia andiamo all'inizio west end qui ancora non si è messo a posto quando mai quando mai l'audio c'è e questo no ovviamente non c'è questo santo cielo vai parti parti ti prego parti che tra l'altro tutta la parte topogola sono sicuro di aver essere trovata da cani perché stavo cercando un bulgum per salvare va bene non c'è un paura tra l'altro una cosa di questo non è questo che devo fare allora vuoi fare appunto attacco di cristone interessante proprio che il texter stanno lentamente molto lentamente calcando ok scusi lei non l'avevo notata in mezzo a la furia ma non mi interessa di lì non ci vado per il momento perché già qua subito c'è un punto che devo esplorare allo stamento che è no non lo so che non è qua stavo guardandoci un altro ah no non è una leva ok e io devo usare qua che cosa c'è attaccato a quanto gli pare aspetta io comincio a sentirli vero il vuoto non gelo e oscurità solo il nulla il prossimo prescelto ci attende oh davvero non è quello il tuo scelto quello è un palo in culo da frontale ma così mi ha capisco il motivo maledetto 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 e sei ignorante ignorata stronzo te tutto tutto capito cosa è quello che ha fatto la tua parte qua perché non è una prova sia più bella facile mente scappa scappa non èissimo io stival Merda Sta fermo Posso essere smosso quando un vuole il potere praticamente No devo leggere cosa fa che non ho capito L'ho dato due volte ma non ho capito Questo Scudo di stasi Ma bello Perché mi sta colpendo E non ho capito neanche se non mi ha fatto danno o meno Buona E' buono anche che ho trattato di loro E sto molto l'orgere di quello che pensavo E' solo questo quindi E' solo questo E' comunque un po' scelto Quindi solo questo è un accidenti Aspetta Ci arrivi di? No Porca Qui nel frattempo è stato sistemato Sì si è sistemato Perfetto Non è male lo scudo di stasi Perché non ho visto se la vita calava o meno E poi lo ho avuto a prendere Ma anche se la vita calava non mi si muoveva E vuol dire che posso colpire Nel momento di bruciare un nemico Erobenia Non volevo uccidere di tutti in questo modo così cattivo Invece si Dai Già ieri si è incastrato malissimo Un attimo Un attimo qua Non sai che io lo scherzo di Ecco Già ieri questi si sono incastrati dove non dovevano Cosa da fare là? No Io mi ricordo già Che è il prossimo punto È un punto in cui serve la forza Oh bene Criminali Non so per quale motivo Ok Vediamo un po' cosa mi serve qui Non ci abbiamo potuto arrivare senza Perfetto Oggettino Oggettino E' più interattiva che è Questa Ma è per quanto salti Schifosissimo Non lo aspettare che non lo prendo, non sapevo perché. L'oggetto non lo prendo senza volerlo. L'oggetto qua è di tutti, qua cosa abbiamo? Vabbè, secondo demoni non secondo scrivanie. Poi a carne. E vedo... Scusate, le altre queste no. Troppo calmo. Avanti. Buono. Ehi andare, però. Era tutto qui? Può essere tutto qui? Va bene. Dico lui, vedi? Dai buono. Lei o mai? Scusa, è mai detto proprio inutile. Non è complice un altro. Non vale fare così, no? Faccio un'esplorazione lineare. Per il perda minimale del niente. Perché se vado da sopra... ...mi perdo. bella lì che mi sta inseguendo. Ah, è più beccate distrutte. Che tragedia. Non è complice un'esplorazione lineare. Ne... ... ... ... ... qui ma non c'è niente qui non ci dovrei andare oh 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 aspetta un secondo ah no ok si mi ricordo cos'è quel punto lì si 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 no non ci devo andare adesso ci posso andare adesso ma ci posso anche andare dopo e muore qua c'è un caro vulgrim se però si degnasse attivati questo poi deve essere utile per esplorare questo punto mannaggia ma proprio questo attacco dovevo mettere il look non succede che non serveva niente criminale schifoso perfetto adesso prossima meta credo sia haven allora io di 4 appena vado perchè qua c'ho un vulgrim da cui posso tornare nel caso le cose si mettano male nel caso mi perdano perché quello era un problema tutto cos'è questo ultimo video che mi manca non ho idea devo potenziare al massimo comunque la finestra di invincibilità è troppo potente è troppo potente appena torno alla forza del cart da haven subito prima cosa che faccio qui non c'era nulla ma poi c'era soltanto il sottopassaggio qui sotto che facciamo che prendere ora così non mi incognisco troppo nel caso di tutto se non si può prendere un gioco e però il terzo velo in un gioco si vediamo in un gioco Per la pena che sono scura senza motivo Ah, mi sono anche colato in un brutto posto Ora Cazzo Beh, quello mi servirebbe a salire fin qui Quindi non devo neanche prenderlo Basta, prendo un'altra Perché non c'è neanche due Devo riuscire a ucciderli qui qui li ha Perché è più comodo E io faccio fare tutti gli storici attorno Ovviamente Ho visto te Ottimo Ora C'è qualche altro pezzo di stronzo di attorno Che potrebbero creare nelle scatole Lui ma neanche tanto Oh Ci devo provare Ci devo provare sì Ma con intelligenza Non mi attivare sto bull green prima E niente Casi Io punto che non mi vanno dando Non mi vanno dando ma Piccolo scudo Ho fatto il vostro capo Cosa volete Musillanimi Musillanimi Schifosi Imparate Lì non ha caricato Vedo Vabbè Carichela ora Prego Ecco Bravo Sì lo so Ma è un altro tutorial Su come si fa la stasi E qua sopra Che cosa dipende Un altro altro angelico Sì Boh Soddisfazione le persone Di aver guardato sui due pezzi di stronzi E un altro altro angelico Da comprare Ad aggiungersene soltanto Forza No Stasi Con lo scudo Cheat Ma ciò che lo voglia va Scusate Perfetto Quello lì è amato senza Scusate un po' casino Ma visto? Ma visto L'altro è morto Qui c'è niente Sotto C'è un passaggio Che forse non portava da niente In realtà portava sotto da un tizio Sì infatti Faccio poi tutto E' ancora tutto Ok abbiamo anche lo scudo Primo Faccio uno stronzo lì Non c'è niente alto E' più che faccio poi sei tu Il prossimo sei tu Ho capito L'ignoranza 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 Però Non ho più fatto nulla Non posso disattivarlo Vero? Peccato Che bella la città Di struttare nulla Sempre Sempre Miraviglioso Scaricato Il rumore è orribile Ma mai Mai proprio mai E sali E sali Maledetto tu Dov'è avrei Identificati Posso andare adesso Beh Farebbe forse Di sì Eh sì che ci si può andare lì Ah mi vuoi la caricata in fondo Ah bene No Quelle anime sono mie Merda Va bene Ok Adesso Come faccio a salire da sopra Dove stavo guardando prima Non lo so Non capisco da breve Ah 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 Dove cazzo sono finito No No Dove Devo dire Nonostante P expansive Adesso Non sono paziente Perché io vengo Resim Manager Che gustante Avremo L'區 забita Perché Non lo so Sto Non ci piove Il Sto S La Bellissimo cammina dove le pare E' ok Il fuoco si spegne La gravità ti farà gravitare Pesantemente a terra Tanto lei non respira Cosa gliene frega E l'altro La stasi o nuoti o cammini Guarda così Quale mi ricordo se ci sono andato a esplorare adesso Ho un vuoto Ah si 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 Ci sono andato ci sono andato e non ci devo andare adesso E questo è l'altro punto Tu ti fai Il fruoto ammazzo Sì No ti gassami dai sapiro Dai dopo farò che lo scudo Non ha dissi ma qualche predicato Ma lo scudo è ancora più forte Adesso, la sopra io concedo. Ah, tutta parte per arrivare a Pride. Ah, super via. Non so perché li chiamo con i nomi in inglese. Vieni da chiamarli con i nomi in inglese, ma i peccati. Forse perché ho visto Fullmetal Alchemist, quindi... Vabbè. Cosa ho visto lì? No, ti prego. Cosa ho visto? Spancolor? Mamma mia. Mamma mia. Qui ho fatto, per esempio, piazza. Su Peimonti, su Peimonti, che noi andremo. Ci si corre, ci si corre, forse si 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 si. Se non si blocca, se non si blocca, porca troia. Quella cosa lì è veramente brutta, comunque. Ah, va bene. E' stato sbagliato anche. E' una scena molto bella. L'unica grida di paura, mentre io sentirei una frustata terribile compenetrata nel muro. Che non so nemmeno se lo raggiungo, direi il verano. Sì, va bene. Non è che poi ogni volta che passo sto muro devo per forza caricare qualcosa. Non lo ho capito, non lo passo più. Allora, vedi, lo parlo. Queste cose schifose. Allora, io qua vado da Superbia. Ma non vado da Superbia, ora. Devo esplorare. E poi è morto qualcosa nel frattempo. Dovrei andare a esplorare tutta la chiesa, però. Eh. Eh già. Però sto perdendo quello che non dovrei in realtà. Perché questo è un... È molto avanzato. Vabbè. Vedo quanto vado avanti. Faccio questo Woodrin per la sicurezza. Ciao Woodrin. Ciao. Ciao. Non mi perviene. E qui non ce la posso andare. E qui non ce la posso andare. Ah, morto. Da sopra non ce la posso andare in qualche modo, vero? No. Quindi, qua ci vediamo. Tutto cominciato. Ah, guarda. Questa è lì da un altro. Non la prendo. Sono molto. Stupido, anzi. Ammasso di spesso, è piccolo. Ampanile, allora. Va bene, proprio. Va bene. Ma te lo ti ho accaduto, se tu vuoi, vai via. No, niente. A gente non deve esserci niente. Tanto, va a fare tutto qui. E' il Shagal. Forza. Forza Shagal. E' il Shagal. Forza Shagal. Forza Shagal. Forza Shagal. Forza Shagal. Per fare non ho poi il frontale non bisogna affrontarlo. E quindi giù nella Shagal. Adesso. Non mi ricordo cosa c'è in tutto questo punto. E non mi ricordo che sbuco da qui. Perchè non faccio un backtracking lineare? Perchè devo girarmi in posti in cui non devo? Tanto comunque se dovrò tornare va bene, però qua mi sto. Iniziatelo. Perchè devo girarmi in posti in posti in posti in posti in posti in posti in posti. Perchè devo girarmi in posti 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 in Ok Ok, non ce l'ho ritornato qua, perché a questo punto, appena l'ha caricato, mamma mia, che schifo, questo punto era un punto in cui sburgo dalle fogne. Caricherei qua, voglio vienesperare. Quando caricherai, domenica. E' rilassante la sedia, questa qui, la qui del sesto moto, e guardare il soffitto, aspetta che mi riesca di caricare il gioco. Non penso sia il processo, ma... Ecco lì, torallari. Ecco, questa è una scorsa che io ne avevo bloccato alle fogne. Bene, che ci sono. Di quanto vi ha, sto in patacombe. Dall'altro lato, in teoria. E' una che sta scendendo. Sto esplorando male, sto facendo backtracking malissimo, comunque. Non si va così. Quando ho caricato le armi, c'ho proprio che ho caricato il gioco. Ah, anche senza, va bene. Per quale motivo? Questo è il campo di battaglia... No, questo punto lo devo esplorare dopo. Adesso, no. ce non ci è parlato di battaglia. Grazie. Ci sper Grazie a tutti. 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 Appena appena appena... è tutto superbia. Mamma mia... Ok... Ok... Una... Non so... Non so... Non so... Il grattacielo... che si... Che si... Che si... Che si... è... Forza... 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 è... Lo... 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 Che... è... E... 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 Tappeti... Tappeti...